Le interviste impossibili Oreste del Buono incontra Fyodor Dostoevsky Per quanto passi il tempo Fyodor Mikhailovich Dostoevsky resta sempre attuale, puntualmente scopriamo che ha detto tutto prima che i fatti avvenissero, ma che è anche utile dopo per capire che i fatti non si limitano ad avvenire. Dostoevsky è esile, con il petto incavato, ma dritto, statura media. La faccia è stanca e malaticcia, i capelli di un castano chiaro, tendente a rosso, lisciati e impomatati. Gli occhi sono diversi uno dall'altro. Uno è comune, di colore castano, ma nell'altro la pupilla si è talmente ingrandita da non lasciare più vedere l'iride. La simmetria dello sguardo conferisce ai lineamenti un'espressione enigmatica. Cosa pensa dell'arte contemporanea, maestro? È convinto anche lei che nella maggior parte dei casi sia totalmente incomprensibile? Da noi parlare con gli altri è una vera scienza. Ci sono molti metodi semplificati e puramente scientifici. Prima, ad esempio, le parole «io non capisco nulla» dimostravano soltanto la stupidità di colui che le pronunciava. Adesso, invece, fanno grandissimo onore. Basta che le pronunciate con aria sincera e con superbia. Io non capisco nulla d'arte. E vi ponete subito a un'altezza straordinaria. Questo è tanto più convincente se non capite nulla davvero. Allora lei sta dalla parte di quelli che sostengono che i fautori della tradizione sono stupidi? Di quelli che sostengono che occorre per forza rinnovarsi? In realtà da noi ognuno sospetta l'altro di stupidità senza riflettere e senza rivolgere a se stesso la domanda inversa. Ma non sono forse io lo stupido? La soddisfazione è generale, tuttavia nessuno è contento, tutti si arrabbiano. Anche la riflessione al tempo nostro è quasi impossibile. Costa cara. È vero che si comprano le idee belle pronte. Sono in vendita dappertutto e le regalano persino. Ma quando le regalano vengono a costare anche di più, come del resto si comincia già a presentire. In conclusione, nessun beneficio è lo stesso disordine di prima. Le vecchie scuole scompaiono, le nuove imbrattano, ma non scrivono. Tutto l'impegno se ne va in un ampio volo, nel quale si vede un'idea mostruosa, non elaborata. È la forza dei muscoli del volo, ma quanto all'opera, una piccolezza. Maestro, ma lei perché scrive? Già per la mia stessa natura debole di nervi mi è difficile rispondere alle domande equivoche che mi vengono poste. Mi è difficile rispondere senza infuriarmi, soprattutto contro me stesso. Perché non ho saputo fare in modo che le domande fossero migliori. E nello stesso tempo mi è difficile, lo riconosco, conservare il mio sangue freddo, vedendo davanti a me una maggioranza che, a quanto ricordo, agiva contro di me, con la stessa insofferenza con cui io agivo contro di essa. E naturalmente ne è venuta fuori una gran confusione. Da tutte e due le parti volavano le iperboli, coscienti e ingenue. E io istintivamente mi sono dato alla fuga, temendo che queste iperboli prendessero proporzioni ancora maggiori. Mi sono messo a parlare di me, per avere il diritto di parlare degli altri. Invece continuerò a parlare soltanto di me. E quanto agli altri, se li ricorderò, sarà in generale impersonalmente, in un senso assolutamente astratto. Dunque la sua arte narrativa è assolutamente autobiografica. Lei si identifica totalmente nei suoi personaggi? Credo che non basti mettere avanti con esattezza le caratteristiche di un personaggio. Occorre illuminarlo risolutamente con sguardo di vero artista. Un vero artista non deve restare ad alcun costo allo stesso livello del personaggio da lui rappresentato, contentandosi unicamente della sua verità reale. Se no, l'impressione di verità mancherebbe. Altrimenti si crede che l'autore voglia proprio rappresentare il personaggio come dotato di piena ragione in tutte le sventure che gli si rovesciano addosso. Non ci si deve accontentare unicamente della verità reale, dice lei. Questo significa un'avversione al realismo? Non è vero. Io non sono che un realista nel senso superiore, ovvero rappresento tutte le profondità dell'animo umano. Per quanto riguarda coloro che dichiarano di non capire nulla, è il caso di occuparsene. Voi non arriverete mai a credere come costoro considerino la letteratura. Un limitato utilitarismo. Ecco quello che pretendono. Scrivete per loro la più poetica delle opere. La metteranno da parte per prendere quelle dove è descritto come qualcuno venga fustigato. La verità poetica è considerata una stupidaggine. I nostri artisti hanno bisogno di maggiore ardire, di maggiore indipendenza di pensiero e forse di maggiore cultura. Bisogna rappresentare la realtà com'è, dicono, mentre questa realtà non esiste affatto. E non è mai esistita da nessuna parte. Perché l'essenza delle cose è inaccessibile all'uomo. L'uomo concepisce la natura secondo come essa si riflette nella sua idea, passando attraverso i suoi sentimenti. Quindi occorre dare la maggiore libertà all'idea e non avere paura di quanto è ideale. A questo proposito e per ogni evenienza aggiungerò un proverbio turco. Turco davvero, non inventato. Se tu miri a una meta e durante la strada ti fermi per tirare pietre a ogni cane che abbaia, non arriverai mai alla meta. Capito, anche se parlo turco. Mantenere il pieno realismo è trovare l'uomo nell'uomo. Il pieno realismo è l'angoscia dell'essere evoluto e cosciente che vive nella nostra epoca. Maestro, lei ha avuto una vita piuttosto movimentata. Modestamente. Maestro, qual è il fatto della sua vita che più lo ha impressionato? Qual è il fatto che ha avuto più influenza sulla sua arte narrativa? Io non ricordo mai troppo bene. Colpa dell'epilessia. Comunque credo che sia stata la mia condanna a morte per delitto politico. ero stato portato insieme con altri sul patibolo. Mi venne letta la sentenza di condanna a morte mediante fucilazione. Una ventina di minuti più tardi mi fu letto il provvedimento di grazia e mi fu commutata la pena. Tuttavia, nell'intervallo di quella ventina di minuti o perlomeno di un quarto d'ora tra le due sentenze, vissi nell'assoluta convinzione che entro qualche minuto sarei morto. Colpa dell'epilessia. Io non mi ricordo mai troppo bene. Ma questo episodio lo ricordo. Continuerò a ricordarlo sempre, nei minimi particolari. Nei minimi particolari? A circa venti passi dal patibolo attorno al quale stavano la folla e i soldati erano stati piantati tre pali perché i condannati erano molti. I tre primi furono condotti ai pali e legati. Gli si fece indossare l'abito dell'esecuzione, lunghi camici, bianchi. Furono loro calcati certi cappucci bianchi perché non vedessero i fucili. Poi davanti a ogni palo si schierò un drappello di soldati. Ero l'ottavo della lista e perciò dovevo andare al palo con il terzo turno. Mi restavano dunque da vivere cinque minuti, non di più. Quei cinque minuti mi parvero un tempo interminabile. Un'immensa ricchezza da usare bene. Dato che non c'era ancora da pensare all'ultimo istante, presi varie risoluzioni. Calcolai il tempo corrente per dare addio ai miei compagni e pensai per questo un paio di minuti. Poi fissai un altro paio di minuti per pensare a me stesso e il minuto restante per guardarmi intorno un'ultima volta. Morivo a ventisette anni, pieno di salute e di forza. Dandola addio ai miei compagni, feci a uno di loro una domanda molto banale e mi interessai molto alla risposta. Poi quando ebbi dato l'addio ai miei compagni giunsero i due minuti che mi ero assegnato per pensare a me stesso. Sapevo anticipatamente quello che avrei pensato. Desideravo immaginare con la maggiore rapidità e la maggiore chiarezza possibili come poi potesse avvenire che in quel momento esistevo e vivevo, ma di lì a tre minuti sarei stato ormai un che, qualcuno o qualcosa. Ma chi dunque? Dove? Provate a rispondere. Maestro, neppure per scherzo. Pensavo di risolver tutto questo in un paio di minuti. Non lontano c'era una chiesa e la sua sommità brillava con il tetto dorato sotto il sole fulgido. Ricordo di aver fissato con terribile ostinazione quel tetto e i raggi che se ne irradiavano. Non potevo staccare gli occhi da quei raggi. Mi pareva che quei raggi fossero la mia nuova natura e che di lì a tre minuti mi sarei in qualche modo fuso con quei raggi. L'incertezza e la repulsione davanti a quella nuova cosa che sarei stato e che sarebbe subito sopraggiunta erano terribili. Ma nulla per me fu così penoso in quel momento come l'incessante pensiero se potessi non morire se si potesse far tornare indietro la vita quale infinità e tutto ciò sarebbe mio allora trasformerei ciascun minuto in un intero secolo non ne perderei nulla terrei conto di ciascun minuto e non ne sprecherei più nessuno. Questo pensiero mi si tramutò infine in una tale rabbia che avevo il desiderio di venire fucilato al più presto possibile appunto per togliermi il pensiero. Maestro, lei ha scritto tanti capolavori. Lo dite voi, io ho scritto, ecco tutto. Delitte Castigo, L'Idiota, i fratelli Karamazov, eccetera. Permette che noi preferiamo un'opera più piccola ma ancora più legata ai nostri giorni ricordi dal sottosuolo. Fate pure. L'anno 1864, quello in cui scrisse i ricordi fu un anno duro per lei, vero? Tutti i miei anni sono sempre stati duri. Particolarmente duro. Tutti i miei anni sono sempre stati particolarmente duri. Particolarmente duro per lei, un anno di lutti e di sofferenze. Le torna in mente qualcosa a proposito della stessura di quest'opera. Quest'opera eccezionale che enucla i grandi temi dei suoi romanzi poderosi. Le l'ho già detto della mia memoria. Già da tanti anni soffro di epilessia presa in prigionia in Siberia. Questa malattia mi ha portato via poco a poco il ricordo delle persone e degli eventi, a tal punto che ho dimenticato letteralmente persino tutti i temi e i particolari dei miei romanzi, cosicché alcuni di essi che non rileggo dal tempo della loro pubblicazione mi rimangono letteralmente sconosciuti. E perciò non prendetevela se ho dimenticato le circostanze e il periodo. Ci permetta allora di venire in aiuto alla sua memoria con queste lettere che lei ha scritto a suo fratello Michael, lettere che, se non sbagliamo, trattano proprio dell'argomento che ci interessa. ha qualcosa il contrario? È la mia terribile, insuperabile, incredibile avversione a scrivere lettere. Mi piace ricevere lettere, ma scriverne lo ritengo quasi impossibile, anzi spropositato. Ci permette comunque questa lettera del 20 marzo 1864. Amico caro, mia moglie è stremata, difficilmente vivrà sino a Pasqua. Mi sono rimesso a lavorare al racconto. Mi sforzo di liberarmene al più presto e nello stesso tempo di farlo meglio possibile. Ho questa lettera del 26 marzo. Gentilissimo fratello, ma perché non la legge lei? Gentilissimo fratello, mia moglie più di due settimane non vivrà in nessun modo. Cercherò di finire il racconto presto, ma giudica tu stesso se questo è il momento opportuno per scrivere. Oppure quest'altra lettera. Questa è del 2 aprile. Gentile amico, ho paura che la morte di mia moglie sopraggiunga presto e allora sarà necessaria un'interruzione del lavoro. Se dovesse non esserci questa interruzione potrei finire, ma non sono in grado di far nulla di definitivo. Ho quest'altra lettera ancora. Questa è del 9 aprile. Caro amico, sono talmente tormentato, oppresso dalle circostanze in una situazione talmente angosciosa che non posso neppure rispondere delle mie forze fisiche durante il lavoro. Cosa fare? Stamparlo? Non finito? Impossibile. Non può essere spezzato. E intanto non so cosa sarà forse una porcheria, ma personalmente ripongo in esso grandi speranze. Sarà una cosa forte e sincera, sarà la verità, anche se cattivo farà impressione. Scrivere lettere lo ritengo quasi impossibile, anzi spropositato. Io non so veramente esprimermi in una lettera. E poi ecco che mi inviano opinioni, repliche e certe idee che io avrei scritto, alle quali, però, non ho mai potuto pensare. Il testo di cui parla nelle lettere a suo fratello è evidentemente ricordi dal sottosuolo. Davvero non ci vuole dire nulla su questo testo eccezionale, questo testo che noi consideriamo l'inizio dell'intera grande narrativa moderna. Anche se cattivo, evidentemente ha fatto impressione. Io solo ho messo in luce la tragicità del sottosuolo, le sue sofferenze e mutilazioni, la sua coscienza di una vita migliore e dell'impossibilità di raggiungerla e soprattutto la sua profonda convinzione di una condanna all'infelicità senza che valga la pena di riabilitarsi. Non è allegro, maestro? Anche adesso che tanti anni sono passati, tutto questo mi riesce assai molesto a ricordare. Mi pare di aver commesso un errore nel cominciare a scrivere ricordi dal sottosuolo. Almeno ho provato vergogna per tutto il tempo che li scrivevo, ossia non era più letteratura, ma addirittura una pena correzionale. A un certo punto ho smesso di scriverli. Inutile andare avanti. Raccontare per filo e per segno come io abbia fallito la mia vita per solitaria depravazione morale, per la mancanza di una società, per il mio essere disavvezzo a ciò che vive e per il mio assiduo rancore nel sottosuolo, viva Dio, non sarebbe stato interessante per nessuno. In un romanzo lei mi insegna ci vuole un eroe e in me invece erano a bella posta accolte tutte le caratteristiche che potrebbero servire per un anti-eroe. Ma soprattutto avrebbe destato penosa impressione la continuazione del mio racconto, perché ognuno di noi quanti siamo si è disavvezzato alla vita e ognuno di noi più o meno zoppica e anzi ci siamo talmente disavvezzati da provare per la vita vera una specie di disgusto e però non possiamo patire che ce la rammentino. Maestro, ci scusi, vorremmo congedarci da lei con una parola più chiara su questo sottosuolo. Il sottosuolo dunque sarebbe? Proprio qui sta il punto per me. Signori, scusatemi se mi sono lasciato prendere dalla filosofia. Quanto fa due per due? Ma ci scusi, maestro, fa quattro. Il due per due è quattro, signori, non è più vita, bensì il principio della morte. Mettiamo pure che l'uomo non fa che cercare questo due per due è quattro, cioè una formula valica agli oceani, e sacrifica la vita in questa ricerca, ma di scoprirlo, di trovarlo effettivamente, vi giuro che ne ha come paura. Infatti egli sente che non appena l'avrà trovato non ci sarà più nulla da cercare. quantomeno ogni volta si nota in lui un che è d'impacciato nel momento in cui raggiunge il suo traguardo. Il fatto di averlo raggiunto gli piace, ma averlo raggiunto non proprio, e questo è certo straordinariamente grottesco. Insomma, l'uomo è congegnato in un modo ridicolo. Il due per due quattro è pur sempre una cosa arci insopportabile. Il due per due quattro, secondo la mia opinione, non è che spacciataggine. Il due per due quattro si dà delle arie, vi attraversa la strada con le mani sui fianchi, e sputa. Sputa? Sì, signori, sputa. Badate, sono d'accordo anch'io che il due per due quattro è una cosa rispettabile, ma se proprio si ha da lodar tutto anche il due per due cinque, a volte è una cosuccia graziosa, graziosissima, graziosissima. Capito? Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Oreste del Buono con Fyodor Dostoevsky. Dostoevsky era Carmelo Bene, regia di Vittorio Sermonti. Sermonti. Sermonti.